Lautaro Martinez è diventato negli ultimi anni uno dei giocatori più voluti della storia del calcio a soli 22 anni Lautaro è diventato la colonna portante di una squadra importantissima come l'FC internazionale Milano, la nostra Inter in questo video cercherò in tutti i modi di andare a spulciare quella che è la sua vita e analizzare quelli che sono stati passaggi cruciali per farlo diventare il giocatore fortissimo che tutti noi oggi conosciamo quindi ecco a voi la storia di Lautaro Martinez Lautaro nacque il 22 agosto del 1997 a Baia Blanca in Argentina è stato sempre molto legato alla sua famiglia e suo padre anche egli era un calciatore nel ruolo di ala sinistra ma non vedendo sbocchi nel mondo del calcio decise appunto di fare l'infermiere sua madre carina invece era una casalinga e si presa in moltissima cura del piccolo Lautaro e dei suoi due fratelli Alan e Franco la sua carriera sportiva iniziò come giocatore di basket che ha praticato insieme al fratello Alan tuttavia non era quello il suo destino infatti decise di praticare ben presto il calcio entrando a far parte delle giovanini della squadra del suo paese ovvero i linears di Baia Blanca il piccolo Lautaro cominciò come ala sinistra proprio il ruolo del padre ma non brillò mai e venne spostato in difesa ovviamente l'indole del piccolo Lautaro era quella di attaccare e moltissime volte si spingeva così in avanti da lasciare il reparto arretrato completamente scoperto l'allenatore allora decise di spostarlo in attacco e da quel momento segnò una valanga di gol a partita infatti da quel momento ebbe la media di almeno 5 gol per match Crescendo tra le fila dei linears a 15 anni arrivò la prima opportunità per Lautaro infatti il Boca Junior voleva proporgli un provino questo però durò soltanto 15 minuti perché infatti il responsabile del settore giovanile del Boca lo fece uscire ben presto dal campo dicendo che non era all'altezza degli altri ragazzi e quindi tornò a Baia Blanca un anno dopo arrivò la chiamata del Racing Club che riempì di gioia la famiglia Martinez un po' meno Lautaro però che soffriva tantissimo all'idea di dover lasciare la sua famiglia passarono i giorni e la sua famiglia infatti riuscì però a convincerlo e a fargli fare le valigie per partire alla volta di Avellaneda la sede del Racing qui venne aggregato al settore giovanini e nel primo anno segnò 26 gol in 26 partite scalò quindi molto velocemente le gerarchie della squadra venendo subito schierato tra le riserve della prima squadra del club Lautaro fu così devastante che venne anche convocato dalla nazionale giovanile argentina con la quale segnò all'esordio in un calcio di rigore la felicità tuttavia durò ben poco la mancanza di casa era troppo forte per Lautaro così forte da farlo deprimere, piangere e non rendere più in campo come in passato chiamò più volte casa cercando di convincere il padre a riportarlo proprio in patria questa enorme tristezza stava provando il piccolo Lautaro così tanto da far accadere qualcosa di terribile durante un allenamento fu vittima di un attacco epilettico le troppe pressioni lo avevano sopraffatto e allora la famiglia lo raggiunse venendo a conoscenza del fatto che Lautaro del calcio non ne voleva più sapere padre allora gli promise che sarebbe andato a vederlo ogni settimana e inoltre convince un amico di famiglia a vivere con il piccolo e di prendersi cura di lui quel momento fu importantissimo per il Torito che cominciò a giocare e a segnare valanghe di golla di lì a poco arrivò anche la chiamata delle giovanile real rifiutati però da Lautaro perché voleva diventare il simbolo del suo racing questo lo portò ad esordire in prima squadra a sol 18 anni il 31 ottobre del 2015 sostituendo quello che fino ad allora era stato il suo idol Diego Alberto Milito il suo primo gol da professionista arrivò l'anno successivo durante la preparazione estiva segno infatti in un amichevole contro l'indipendiente diventando così una penina inamovibile per il club a soli 19 anni fu così devastante che riuscì a far qualificare il suo racing in Coppa Libertadores la nostra Champions League la convocazione nazionale under 20 sembrava ormai cosa fatta infatti quell'estate si sarebbero disputati i mondiali cadetti tuttavia in una partita amichevole con le albi celeste si infortunò gravemente ma la forza del Toro superò ogni limite si riprese miracolosamente prima dell'inizio del campionato del mondo e la prima partita era lì in prima linea a combattere con i suoi compagni anche qui però non fu poi così fortunato diventando al suo esordio il primo giocatore in assoluto ad essere espulso tramite il VAR le protezze del Torito non passarono osservate all'allora CT della nazionale argentina Jorge San Paoli che decise di convocarle in nazionale maggiore per delle amichevoli ma la sfortuna bussò di nuovo alla sua porta durante una partita di preparazione con il Racing si ruppe il dito del piede che lo tenne lontano dai campi di calcio per ben 114 giorni ritornò a giocare il 22 ottobre del 2017 in quel giorno si giocava alla Bombonera in Argentina casa della squadra più importante forse dell'Argentina ovvero il Boca Juniors Lautaro era pieno di energia e lo voleva dimostrare a tutti i costi ecco che in questa partita accade qualcosa di magico corre accompagnato dal compagno di squadra che lo serve al limite dell'area e sfotera un destro ineguagliabile di una forza incredibile sfonda la rete e il Toro dimostra a tutti che è tornato a distruggere le porte avversarie le sue prestazioni in quell'anno furono le migliori in assoluto tanto che il Racing dovette alzare la sua clausola recissoria per evitare che squadre come il Borussia Atletico Madrid e Inter lo acquistassero per pochi soldi a soli 20 anni contava già 48 presenze e 22 gol nel campionato argentino nel 2018 il giovane Lautaro era convintissimo di essere convocato da San Paolo per il mondiale di Russia ma non fu così la troppa poca esperienza in campo internazionale spinse il CT della vice-eleste a non convocarlo questo ferì moltissimo il Toro che allora decise che era arrivato il momento di passare a una squadra di spessore mondiale accettò quindi le offerte della nostra Inter che lo acquistò per 25 milioni di euro diventando il trasferimento più costoso nella storia del Racing l'Inter però era già a conoscenza delle doti del Toro e inserì una clausola di 120 milioni nel suo contratto la clausola più onerosa del club nerazzurro sappiamo tutti poi il resto della storia prendendo il posto di Cardi il nostro Lautaro Martinez sta poco a poco diventando il nostro idolo il nostro paese il nostro paese Grazie a tutti Ebbene ragazzi se il video vi è piaciuto vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale ragazzi attivando la campanina perché è molto molto importante Sappiamo tutti che questo è un momento molto particolare per la Serie A sappiamo tutte le notizie che stanno avendo in questo periodo ma non dobbiamo dimenticarci che ovviamente l'Inter è il nostro amore e di qui a poco nonostante le avversità tornerà in campo la nostra bene amata E quindi nella genere del dolore io ho sempre giurato amore a questa squadra e spero per voi ragazzi che il video vi sia piaciuto condividetelo con i vostri amici per far sapere magari la storia di Lautaro Martinez se non la conoscevate ancora Mi raccomando seguidemi su tutti i social come Instagram, Facebook, Twitter e quant'altro trovate tutti i link di riferimento in descrizione Adesso è veramente tutto ciao da Zcloud